carissimi amici del canale youtube dentro la notizia ciò che bene diventa male e ciò che è male diventa bene è un po quello che vedremo oggi in tutto questo video un inquilino su quattro delle case popolari umbre è straniero e il trend è in continua crescita visto che l'85 per cento dei futuri assegnatari di alloggi ater fa capo proprio ad immigrati che occupano saldamente le posizioni più alte nelle graduatorie e quanto emerge tra le pieghe del bilancio di fine mandato illustrato ieri mattina a terni dal presidente dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale alessandro almadori later umbria nata nel 2011 dalla fusione delle due aziende di perugia eterni a 10.000 abitazioni di proprietà e 9 su 10 sono rappresentate dall'oggi a canone sociale o concordato il governo si è impegnato con un ordine del giorno a valutare un provvedimento che consenta la regolarizzazione degli stranieri con un contratto di lavoro dietro il pagamento di una cifra forfettaria con queste parole il ministro dell'interno luciana lamorgese apre dunque a una possibile sanatoria dei migranti irregolari ma con un contratto di lavoro secondo la proposta di legge di iniziativa popolare ero straniero in queste settimane all'esame della commissione affari costituzionali della camera presieduta da giuseppe brescia del movimento 5 stelle maggi di più europa valuta positivamente la risposta di luciana lamorgese mi auguro che questa volontà politica si concretizzi in tempi rapidi in attesa di una riforma strutturale che consenta la regolarizzazione su base individuale degli stranieri già radicati nel territorio come prevede la proposta di legge di iniziativa popolare ero straniero maggi prosegue nessuno stato democratico può consentire di avere nel proprio paese 700.000 cittadini queste le ultime stime che sono dei fantasmi e degli irregolari e che magari hanno un datore di lavoro pronto ad assumerli domani magari hanno un datore di lavoro pronto ad assumerli domani dice magi già magari ma la realtà è che milioni di italiani e stranieri regolari non riescono a trovare un posto di lavoro regolarizzare dei clandestini venuti in italia illegalmente significa mettere altre centinaia di migliaia di persone a carico dei sistemi sociali pagati dai contribuenti sistemi sociali che già non reggono gli attuali assistiti a dicembre una circolare del Viminale ricordava che ai sensi del primo decreto sicurezza nel sistema si proimi possono ora essere accolti solo i minori non accompagnati e le persone che godono dello status di protezione internazionale il resto dei clandestini non avrebbe più avuto diritto all'accoglienza a carico dei contribuenti italiani se non che il ministero dell'interno aveva emesso una nuova nota in cui si prorogava di altri sei mesi la permanenza nei centri il 14 gennaio nel corso di un'intervista otto e mezzo la lamorgese aveva detto va ampliata la categoria dei permessi umanitari per evitare quanto stava per succedere a dicembre ovvero che chi era senza permesso finisse per strada oltre a recepire i punti indicati dal presidente della repubblica va fatto anche un discorso più complessivo come permessi umanitari eravamo arrivati al 28 per cento contro il 3 4 per cento di altri paesi ma limitare al massimo questa forma di protezione non va bene così conclude la lamorgese che ammette che prima si eccedeva nel dare la protezione e adesso cosa vuol fare però tornare ad essere un'eccezione in europa a spese dei contribuenti italiani quando invece ci sono migliaia di nostri senza tetto a cui nessuno pensa per alcuni sembra sempre più evidente il prima i destini e poi gli italiani il deputato del pd matteo orfini chiede al suo partito di lanciare un ultimatum al movimento 5 stelle e di pretendere l'abolizione dei decreti sicurezza io vorrei che il pd dicesse che per noi per andare avanti con questa esperienza di governo il punto fermo è l'abrogazione dei decreti sicurezza se no non si va avanti e vabbè alcuni diranno pazienza si andrà alle elezioni quello che dovrebbe fare il suo partito spiega orfini è mettere i 5 stelle di fronte a una presa di posizione netta noi votammo il taglio dei parlamentari a cui avevamo sempre votato contro io mi aspetto che il pd vada al tavolo di governo con i 5 stelle e dica o così oppure lasciamo stare chiedo al mio partito di porre questa come condizio sine qua non credo sia una discussione semplice politicamente noi abbiamo cacciato salvini dal governo non possiamo tenerci le leggi simbolo di salvini quindi quelle leggi vanno cancellate almeno nei loro aspetti fondamentali sia per la parte che riguarda l'immigrazione sia per quella che riguarda l'ordine pubblico che sta producendo anche quella diversi problemi le aperture delle ultime ore sono passi in avanti e questa è la dimostrazione che combattere serve sempre però non sono sufficienti le modifiche ai decreti sicurezza secondo molti vengono rinviate a dopo il voto delle elezioni regionali in emilia e calabria per il timore che siano impopolari notate cosa afferma orfini io questa tesi non l'ho mai considerata accettabile politicamente perché se una battaglia è giusta la si fa anche se è impopolare ma chi determina cosa è giusto o meno una legge impopolare significa che è contro il popolo ma se danneggia i cittadini chi avvantaggia se non l'elite e chi paga lo stipendio ai parlamentari l'elite o il popolo e quindi di chi dovrebbero fare gli interessi parlamentari se non del popolo forse negli ultimi anni si è persa di vista questa semplice verità il politico deve fare gli interessi del popolo dei cittadini anche perché gli immigrati invecchiano eppure nessuno ne parla un errore tanto più grave in ragione del fatto che questo fenomeno è destinato con il passare degli anni e in assenza di opportuni correttivi a presentare un conto sul piano sia politico che economico molto salato calcoli recenti stimano che attualmente in europa sono già oltre 7 milioni gli immigrati over 65 e che la sola francia ne ospita al netto di quelli e non sono pochi che hanno preferito consumare gli ultimi anni di vita facendo ritorno nelle rispettive nazioni di origine più di 400 mila secondo le proiezioni elaborate dall'ismu di milano infatti entro il 2037 l'italia registrerà rispetto a quella che sarebbe stata la popolazione di soli autoctoni un surplus annuo di 100 mila ultra 65 anni immigrati destinati ad invecchiare nel nostro paese la cui posizione contributiva stante le peripezie di una vita lavorativa spesso irregolare e discontinua potrebbe non garantire un'adeguata protezione lasciando alla fiscalità generale l'onere della doverosa integrazione al minimo delle loro pensioni allora sarà finito il sogno dello stereotipo dell'immigrato giovane e aitante ad eternum che con i suoi contributi lavorativi consente di tenere in piedi i nostri malandatissimi sistemi pensionistici una favola che già ora non si ha diritto di raccontare per la semplice ragione che quanto versato dagli immigrati nelle casse della previdenza nazionale non è anche se molti si illudono a fondo perduto ma un vero e proprio prestito che a scadenza data dovrà essere restituito con i relativi interessi e allora i nodi verranno al pettine edoardo caroli una sardina del movimento di mattia santori ospite ad agorà fa la lista di chi è pronto a sostenerli dice ci sostengono non solo a sinistra ci sono anche cinque stelle ma anche persone che supportano la destra penso per esempio amara carfagna che ha espresso simpatia non ci sarebbe nulla di che meravigliarsi se un membro dell'organizzazione e cfr di soros sostenerse le sardine e l'immigrazione di massa di clandestini anche se è chiaro che la carfagna deve essere prudente nel manifestare certe simpatie non abbiamo rotto la maggioranza abbiamo solo difeso lo stato di diritto continueremo a farlo anche senza il permesso dei populisti populisti nuovi e populisti vecchi abbiamo fatto un governo insieme per mandare a casa salvini non per diventare grillini così matteo renzi su facebook rivendica la decisione di aver votato insieme al centro destra sulla prescrizione il ministro della giustizia alfonso bonafede a circo massimo su radio capital ha risposto alle critiche di matteo renzi alla riforma sulla prescrizione con queste parole prendo atto che italia viva sia isolata dalla maggioranza votando insieme a forza italia e alle opposizioni la proposta che voleva abolire la prescrizione non è passata abbiamo bloccato forza italia e il centro destra il mio lavoro è dare ai cittadini una riforma che permetta ai cittadini di avere un processo penale con tempi ragionevoli a forza di tirare la corda si spezza e forse non basterà l'attac alle poltrone su twitter maria elena boschi di italia viva scrive mentre vota la riforma bonafede scritta da lega e cinque stelle il pd ci accusa di tradimento perché votiamo una riforma scritta dall'attuale vice segretario del pd in questa storia c'è qualcuno in manafede il cinquantesimo appuntamento del world economic forum di davos è fissato a partire dal 21 al 24 gennaio il presidente americano donald trump incontrerà così sul suo cammino i suoi antagonisti l'attivista svedese greta thunberg e il finanziere george soros saranno scintille il presidente trump infatti ha più volte messo in dubbio la serietà del cambiamento climatico e del riscaldamento globale arrivando al ritiro degli stati uniti dall'accordo sul clima raggiunto a parigi saranno della partita anche il segretario del tesoro statunitense steven munchin la presidente della commissione europea usola von der leyen che pochi giorni fa ha presentato la bozza del green new deal la presidente della banca centrale europea christine lagarde la direttrice del fondo monetario internazionale cristalina georgheva insomma parecchi amici e amiche soprattutto di soros visto che trump non ha peli sulla lingua è facile aspettarsi qualche momento di tensione vedremo il debito pubblico italiano a novembre è sceso di 2,2 miliardi a 2444,6 miliardi di euro lo ha comunicato di recente la banca d'italia in sintesi nel 2019 abbiamo fatto poco deficit se confrontato con il trend dell'ultimo decennio e soprattutto con i grandi partner principali dell'eurozona germania esclusa ma resta il fatto che da noi il debito continua a crescere a ritmi più veloci dell'economia e nello specifico di oltre il doppio in effetti negli ultimi anni abbiamo registrato una spesa per interessi calante a fronte di un aumento dello stock tuttavia ciò è stato dovuto non certo a nostri meriti bensì alle politiche monetarie ultra espansive della bce i tassi sono stati azzerati e i btp acquistati da francoforte con il quantitative easing queste misure continueranno a vigere anche nei prossimi mesi ma non sappiamo per quanto tempo ancora se a un certo punto il mercato dovesse tornare a pretendere dall'italia il pagamento di un interesse medio del 3,5 per cento sul debito da meno dell'1 per cento attuale come nel periodo precedente agli stimoli monetari la spesa a carico di tutti noi contribuenti esploderebbe a regime di 40 50 miliardi all'anno anziché tendere al pareggio di bilancio sfonderemo ampiamente il tetto del deficit del 3 per cento e i mercati ci toglierebbero definitivamente la fiducia a meno che il governo non intervenisse prima con una cura draconiana per risalare i conti pubblici cioè tagliando la spesa e o aumentando le entrate vale a dire più tasse ma questa soluzione per un'economia già molto debole come la nostra non solo non sarebbe praticabile sul piano politico ma persino su quello fiscale il pil farebbe nuovi passi indietro e il grado di indebitamento salirebbe invece di scendere ci dirigeremo verso il default in men che non si dica e cosa ancora più grave nessuno mostra di avere realmente percezione a roma di questo scenario eppure come vi dissi tempo fa l'elite agiscono così ti fanno indebitare abbassando i tassi e quando hai un debito elevato li alzano improvvisamente in modo che non sei in grado di ripagare il debito le lite puntano a farti fare più debito improduttivo perché sanno che gli investimenti hanno un ritorno nel tempo e potrebbero vanificare la loro strategia ora cosa pensate ci stiamo incamminando nella strada tratteggiata dall'elite oppure non vi sono motivi di preoccuparsi e quindi avanti tutta così orban rifiuta il pronunciamento della corte ue riguardo alla legge sulle ong e insiste nel mantenere in vigore la norma che secondo l'avvocato generale della corte di giustizia ue è incompatibile col diritto europeo lo ha affermato in un comunicato il partito del governo ungherese fidez rispondendo alla posizione espressa un paio di giorni fa dall'europa secondo le conclusioni del procedimento per inadempimento avviato dalla commissione europea contro budapest le restrizioni imposte dall'ungheria al finanziamento delle ong con una legge apposita chiamata stop soros non sono compatibili con il diritto ue il pacchetto di leggi criminalizza in particolare l'immigrazione clandestina e le persone o le organizzazioni che realizzano attività che in qualche modo la favoriscono introducendo il carcere soros usa tutti i suoi uomini per vincere questa battaglia e piegare orban con l'immigrazione di massa ci riuscirà cosa significa questo per noi fidez il partito di orban come dicevamo giorni fa ha minacciato di uscire dal ppe in merito l'euro deputato della lega e presidente del gruppo identità e democrazia marco zanni ha dichiarato noi siamo pronti ad accogliere chiunque condivida le nostre idee qualunque sia la decisione di fidezza rimanere nel ppe o andare in un altro gruppo o raggiungere il nostro gruppo noi stiamo collaborando con loro e continueremo a collaborare con loro sui temi concreti per ora non c'è nulla di concreto c'è un dialogo sulle tematiche che va avanti da prima di luglio e siamo pronti a lavorare su tante tematiche assieme invece secondo il vice presidente di forza italia antonio tagliani anche se ci sono dei problemi che vanno risolti credo che victor orban e fidez debbano rimanere nella famiglia del ppe sarà d'accordo il leader ungherese il movimento 5 stelle che nel 2018 sulla spinta leghista portò l'allora governo conte a non partecipare alla conferenza di marrakesh per firmare il global compact dell'onu ieri invece in aula a strasburgo ha detto sì al piano delle nazioni unite i 14 pentastellati votano a favore di un emendamento presentato dall'eurodeputato del pd pierfrancesco maiorino e confirmato dai dem andrea cozzolino e giuliano pisapia in questo emendamento vi è anche un punto a favore delle ong in netto contrasto con le destre europee sovraniste che denuncia inoltre gli attacchi contro le ong che aiutano queste persone chiede che lui e i suoi stati membri aumentino l'assistenza umanitaria per le vittime di sfollamenti forzati chiede che lui e i suoi stati membri forniscano sostegno alle comunità che ospitano i rifugiati ribadisce che l'attuazione dei patti globali sulla migrazione e sui rifugiati deve pertanto andare di pari passo con l'attuazione dell'agenda 2030 delle nazioni unite come stabilito negli obiettivi di sviluppo sostenibile nonché con maggiori investimenti nei paesi in via di sviluppo durissima la reazione di giorgia meloni i grillini in pieno delirio mondialista e immigrazionista al parlamento europeo dicono sì al global compact il patto onu che introduce il principio della migrazione libera e senza regole praticamente il via libera all'invasione questo è solo l'ultimo della serie infinita dei volta faccia del movimento 5 stelle con l'aggravante che si schierano contro il voto del parlamento italiano abbiamo fermato da soli il global compact qualche mese fa siamo pronti a rifarlo qualora quei partiti sempre più distanti da ciò che pensa il popolo italiano provino a farlo rientrare dalla finestra l'ex conduttore della gabbia attualmente nel gruppo misto farà di tutto per rientrare nel gruppo pentastellato deciso a continuare la sua battaglia per rispettare il programma con cui è stato letto nel 2018 paragone è stato espulso per il no alla fiducia come previsto dal regolamento queste le parole di di maio a carta bianca a proposito dell'espulsione di paragone dal movimento questa è la replica dell'ex grillino ai microfoni di un giorno da pecora paragone afferma ciò che dice luigi è falso nel regolamento c'è scritto di votare la fiducia ogni volta che è necessario nel mio caso il mio voto non lo era caro di maio andiamo davanti al giudice e io vincerò regolamento alla mano ho fatto appello al collegio dei garanti si tratta del secondo grado il collegio è formato dal viceministro cancelleri dal sottosegretario crimi e da roberta lombardi rimarrà ai ghiatti la mia polemica sul mess che secondo il programma del movimento 5 stelle dovrebbe essere superato mess global compact decreti sicurezza i cambiamenti dei 5 stelle iniziano ad essere tanti e paiono non piacere affatto ai cittadini bibiano è una vergogna l'emilia romagna merita un sistema più trasparente e libero lo ha dichiarato matteo salvini durante la tappa borgo panigale giovedì prossimo 23 gennaio il leader della lega sarà nel comune tristemente famoso per le vicende riguardanti le presunte irregolarità nell'affido dei minori lo ha annunciato più volte ma probabilmente salvini non si aspettava di trovare lì alla sua manifestazione anche la manifestazione delle sardine infatti si sono organizzate per lo stesso giorno la stessa piazza piazza della repubblica il segretario regionale della lega giannucca vinci ha dichiarato vogliono bloccare la nostra manifestazione ma non ci spaventano cercano di impedire un nostro evento e da movimento falso buonista si sono scoperti essere un movimento di azione illiberale provano a fare questa forzatura ma non ci spaventano è certamente la polonia il paese che agli occhi della commissione europea dovrebbe beneficiare maggiormente del fondo per una transizione equa strumento ideato per facilitare il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 secondo la proposta legislativa presentata ai governi dall'esecutivo comunitario il paese dell'europa centro orientale dovrebbe ricevere investimenti complessivi per poco più di 27 miliardi di euro su un totale di 104 miliardi secondo dati pubblicati mercoledì a bruxelles la polonia otterrebbe 2 miliardi di euro già subito dai 7 miliardi e mezzo di denaro fresco di cui sarà composto il fondo gli undici paesi dell'est europa dovrebbero mobilitare investimenti per 60 miliardi e rotti di euro agli altri stati membri rimarrebbe il resto cioè poco o nulla importante beneficiaria è la germania con investimenti stimati in 13,4 miliardi di euro la repubblica federale continua a fare grande uso di carbone lignite e ha un'industria chimica molto inquinante confermata è la dotazione per l'italia 364 milioni di euro per investimenti pari a 4,8 miliardi futuri è da tenere la mente però che la distribuzione del denaro dipenderà da specifici progetti di riconversione ambientale ed economica che i paesi dovranno presentare alla commissione europea per ottenerne l'approvazione e quindi i già miseri 4,8 miliardi in confronto ai 27 oltre della polonia e ai 13,4 miliardi della germania sono solamente sulla carta a fronte di una certezza continuiamo a dare di più all'europa rispetto a quello che riceviamo ce lo possiamo permettere questi signori al governo sono assolutamente inadatti incapaci senza quell'esperienza minima necessaria per governare in modo decente durissima la presa di posizione da parte di silvio berlusconi che affossa letteralmente l'operato dei giallorossi in libia c'è una crisi grave e noi non contiamo più nulla nel minino del cavaliere è finito anche il movimento 5 stelle ormai è una costola della sinistra è tornata alle radici più estreme della sinistra stessa e ha fatto notare pensando poi ai parlamentari dell'altra legislatura l'ottantasette per cento di questi parlamentari non aveva mai fatto una denuncia dei redditi il che mette in risalto un dato di fatto che la dice lunga non avevano durante la vita lavorato mai e non avevano mai combinato nulla di buono per sé e per la propria famiglia berlusconi prosegue nel 2018 sono state molte le aziende che in emilia romagna hanno chiuso battenti sono state se ben ricordo 1929 questo è un trend negativo che continua dal 2009 a rimetterci è stata anche l'agricoltura molto importante per la regione berlusconi dice ha subito negli ultimi anni un calo di più dell'otto per cento e il peggio deve ancora arrivare proprio l'esecutivo targato movimento 5 stelle pd ha inventato la plastic tax sui prodotti monouso e la tassa sullo zucchero sulle bevande zuccherate che sono dei prodotti in cui l'emilia romagna è particolarmente importante la cassazione ha respinto ricorso della procura di agrigento contro l'ordinanza che lo scorso 2 luglio ha rimesso in libertà caro la racchete la comandante della nave seawatch 3 era stata tratta in arresto con l'accusa di violazione del decreto sicurezza bis del codice della navigazione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina il 29 giugno dopo 17 giorni di navigazione aveva forzato il blocco navale e aveva fatto sbarcare i 40 migranti a bordo della seawatch 3 durante le manovre di attracco si era verificato un incidente con una moto vedetta della guardia di finanza che faceva parte del blocco e che è stata speronata mettendo a rischio la vita di alcuni finanzieri per la serie destini incrociati chi ha violato la legge entrando nelle acque territoriali italiane e mettendo a rischio la vita di uomini indivisa non ha commesso alcun reato mentre chi ha difeso le acque territoriali italiane le leggi dello stato italiano e la sicurezza dei cittadini da possibili arrivi di terroristi o comunque clandestini il giorno 20 gennaio potrebbe venire mandato a processo e venire condannato a 15 anni di reclusione per la gioia di tutti i sorosiani liberi di devastare i paesi sotto il loro controllo con l'immigrazione di massa buoni e cattivi giusto e sbagliato ormai i destini si incrociano e si invertono i significati carissimi amici del canale youtube dentro la notizia abbiamo in mente grandi progetti ma abbiamo bisogno del vostro aiuto per raggiungerli se desiderate che una voce a favore del popolo non si spenga potete sostenerci con una donazione che ci aiuti a darvi il meglio un abbraccio dal vostro robin